Ciao a tutti, questa è la storia di Nicola che dall'Abruzzo viene con la sua famiglia per dotare la Mercedes classe A del nostro pacchetto Lucianmen. Ho il piacere di presentarvi Domenico, che è il figlio di Nicola. Domenico, sei pronto a vedere questo spettacolo? Sì, sì. Che pensi che sia? Uno spettacolo sicuramente. Ok, procediamo. Ehi Mercedes! Sì? Attiva luci soffuse. Sto attivando le luci soffuse. Ehi Mercedes! Sì? Luci soffuse colore rosso. Sto cambiando il colore. Ehi Mercedes! Sì? Luci soffuse colore blu. Sto cambiando il colore. Ehi Mercedes! Sì? Luci soffuse colore viola. Sto cambiando il colore. Come vedete, possiamo dare i comandi vocali. Ehi Mercedes! Sì? Luci soffuse colore verde. Sto cambiando il colore. E all'occorrenza possiamo anche usare il software direttamente sul monito, perché noi abbiamo attivato sia la gestione software sul monito originale, che la gestione vocale. Questa è l'app. Torniamo un attimo indietro. Vi faccio vedere l'app che abbiamo attivato. Eccola qui. Non vi potete sbagliare. Possiamo usarlo anche in touch. Qui abbiamo colore e luminosità. Questa è la luminosità. Delle varie zone. Poi andiamo in colore e possiamo scegliere o il multicolore o l'animazione singolo colore, monocolore. In questo caso andiamo con il multicolore, dove lui, a suo piacimento, farà degli effetti particolari. Aspettate che spengo le luci. Ecco qua. Andiamo su questa funzione, che lui cambia. Possiamo scegliere tutte queste opzioni, che vedete. Abbiamo fatto anche il tunnel centrale, il cassetto porta oggetti. Gli effetti sono veramente tanti, come vedete. Ehi Mercedes. Sì? Spegni luci soffuse. Sto disattivando le luci soffuse. Accendiamo la luce. Io vi ringrazio, perché senza le vostre richieste non possiamo fare queste lavorazioni. E grazie di cuore a tutti voi.